Gente, l'albero di Natale. Fra un po' apriranno, fra alcuni minuti vi faccio vedere. Tutta la gente che aspetta. Aspettano tutti, tutti che arrivano per vedere cos'è, cos'ha, così. Manca poco, manca poco per apririo, per farti vedere come sarà il Capodanno Natale. Scusate, tutta la sicurezza, a posto, noi siamo qua in prima fila, faccio vedere il arbero in prima mano, in prima per voi, a Milano.